Ben trovati da Nico Schiodetto e agli amici di Primo Canale. Condizioni meteo per la giornata di giovedì con l'anticiclone a interessare tutta la Liguria. Sarà una bella giornata, cieli sereni o poco molosi e temperature fino a 15-16 gradi sulla costa. Nel dettaglio ecco la situazione per l'imperiese. Sarà una giornata di cieli sereni o poco molosi, bella giornata anche sulle località di mare, 16 gradi attesi a Imperia, 14-15 a Sanremo. Nel dettaglio cosa succederà a Savona, anche qui tempo assolato, una bella giornata, al più qualche no con un volamento di passaggio. Provincia di Genova, alta pressione, finalmente la primavera, oltre a sole le temperature mediamente attorno ai 15 gradi sulle località di mare, 15 gradi attesi a Genova. Minime ancora una cifra. Tiguglio, una giornata tranquilla, sole al più qualche no con un volamento di passaggio, non c'è rischio di piogge, venti deboli. Spezzino, una giornata che sarà assolata, quindi di bel tempo, una pausa dalle precipitazioni con clima gradevole di giorno. Nel corso di venerdì le correnti saranno in quota disposte da ovest e apporteranno ancora tanta nuvolosità, quindi torneranno delle nuvole sulla Liguria e la possibilità di qualche goccia di pioggia, specie nella seconda parte del giorno, da Genova verso l'est, quindi nuovamente la parte orientale del Levante. Durante la giornata sarà rischio precipitazioni, meno esposti invece l'imperiese. Tutti i dettagli precisi scaricando l'app gratuita di Trabi Meteo.